ok nintendari benvenuti prima di tutto andate nel canale iscrivetevi e schiacciate sulla campanella per avere tutte quante le notifiche su quando usciranno i nuovissimi video ma ora andiamo ok dato che oggi è la giornata donkey kong tropical freeze che andremo a giocarci prima di tutto volevo giocare farvi vedere insieme a voi prima di giocare a questo gioco ma perché ci sarà un video bellissimo dedicato a questo gioco volevo farvi vedere sul nes super nintendo volevo farvi vedere donkey kong questo che c'è qua come potete vedere donkey kong country infatti vedete balla donkey kong donkey kong country 1994 un player ok e iniziamo la nostra avventura con donkey kong ecco che troviamo qua dentro qua dentro troviamo questa è la famiglia kong la famiglia kong no dobbiamo prendere quella o e si ce l'abbiamo fatta no ancora no ancora no ancora no ancora Forse ce la possiamo fare Next Ok E adesso ce l'ha fatta Didi Kong ce l'ha fatta E andiamo al prossimo livello No No Vi ricordo che qua Con questa Super Nintendo Si può salvare Ecco che riprendiamo Donkey Kong Ok Diamo il via con l'altro Ok Ok Oh No ancora Ok E ci siamo E ci siamo Ok No 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 Eh però qua Qua siamo con Donkey Kong E Didi Kong Qua è colpa mia Ho sbagliato io dall'inizio Per cui dobbiamo ripartire Mi sa che mi fa ripartire da capo No Sempre da qua Avevo il Didi Kong Eh Donkey Kong Che si scrive D Kong Eh K Però è il diminutivo Non è proprio E Vi ricordo che Fra qualche giorno Ci sarà Il video di Donkey Kong Tropical Freeze E di Donkey Kong Country Returns Mmm Vero Devo aspettare che quello scendi E Eh Donkey Kong Country Freeze Bellissimo Per Nintendo Switch Arriverà E lo faremo Il video Arriverà È già arrivato Però vi Ve lo farò vedere Più avanti Perché prima Vi volevo far vedere Un po' questo Che è bellissimo Per Mmm Sempre qua Mi prende questo Per Nintendo Eh per Super Nintendo Ok Vai Donkey Kong E andiamo No Game over Dovremmo riniziare Da capo Mi sa Sì Bene Vi ho fatto vedere Un pezzo Di Donkey Kong Eh Qua Sul Super Nintendo E niente Ci vediamo Alla prossima Per altri video Donkey Kong Per cui Rimanete Sintonizzati Ciao 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 Grazie a tutti.